all'informa giovani multitasking del comune di bologna puoi trovare servizi e opportunità per la tua formazione e il tuo orientamento professionale ma anche opportunità di incontro e partecipazione alla vita della città accanto a tutori esperti avrai la possibilità di mettere in pratica le conoscenze del tuo percorso di studi nella redazione del portale flash giovani e di sperimentarti nelle attività di video making per raccontare progetti ed eventi dove i giovani sono protagonisti ciao a tutti io sono michele sono un tirocinante post laurea nella redazione di flash giovani durante questi sei mesi di tirocinio che ho fatto sto finendo mi sono occupato del progetto win it you dove ho potuto applicare le mie conoscenze di sociologia in quanto studente di sociologia in un progetto rivolto ragazzi tra 18 e 25 anni che non lavorano e non studiano ciao sono mianu nel 2015 ho svolto un tirocinio post laurea all'informa giovani del comune di bologna grazie a questa esperienza sono entrata in contatto con le associazioni del territorio e ho avuto così l'opportunità di partecipare a progetti di coprogettazione tra l'informa giovani e altre associazioni in particolare pure l'organizzazione e la comunicazione del ciclo di incontri gratuito talent in gioco e attualmente collaboro anche a macbo che multitasking atelier creativo bologna sarà uno spazio il sito in via del porto che appena pronto sarà avviato per fare attività culturali creative artistiche rivolte ai giovani mi chiamo marcello io ho lavorato nella redazione di flash video come volontario in servizio civile ho acquisito un sacco di competenze che mi hanno poi permesso di mettermi in gioco come libero professionista al termine di questo percorso di un anno professionista al termine di questo percorso di un anno